Oh! Let's go! Let's go! Questo non è di trick shooter, è una roba varia come vi potete aspettare, ma, insomma, abbiamo raccolto il vecchio caro Lincoln che è qui presente dopo due mesi o anche di più che sarà comprato di Fox One e vabbè, comunque, giocando schiazzo così, ho invitato un bel trick, cioè, bello, relativamente, comunque, vi lascio la partita. Eh, arriva il giro come Crocoder, come... Ma, Dio, è l'opera di sopra due due, ma che dite? Bellissimo. Ma, Dio, dove è il giro? Dov'è il giro? E' qui giù! Io mi devo lanciare il giro, da cui i peri, sennò muoio. Che trick, eh? Ah, Lincoln. Che trick shooter. Vai, regà, col peri. Peri! 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 Ma, marcano sempre qua sopra, Dio peri. Ho crappato, ho cricco! Eccolo, è stata salita! Qui, qui, qui! Gabo si è andato per una buona causa. Lick, a sapere fuori di... Uuuuh! Lick ora è morto male. No! Non lo sai tutto io... Oddio! Lo sfiora, tu! oh 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 aiuto negro dove cercavi di andare siamo noi negri oh cazzo meldo oh guarda spawnshot con il coltello e inizio a urlare te lo faccio vabbè inizio a urlare cavolo tanto grocco oh lasso che culo no 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 oh oddio what an issue no ragazzi cosa da fanno stai andando da favore non ne sono sicuro oh oh let's go let's go oh 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 un perito ma in andex no no perchè si è finita che per i e per i e per i e per i e per i pericolo ma io so il giubio aspettate non lo scordate sta facendo buio non c'è stata la notte no nico come fai a fare hai fatto già il tuo kit come faccio ad aver fatto questo ci vabbè ma ci sta dentro ok xd allora eh 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 per i per i per i per i no cazzo guarda quale squadra nostra quanto è tattico si muo' inginocchiato con l'assassino pro ciò che vuole fare collare ammazzatelo c'è uno che non è in squadra contro d'oro pò 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 e dietro ha di le musichette di ammonte eh ma dai lo spende quando il giro ti che si grind nico devi farì amore della mamma la partita istruita andiamo a perizia allora direi che il primo episodio probabile del rotto Kierkega è finito fate una cosa gay che salva a tutti bella bella